Buonasera e ben trovati amici telespettatori con la seconda edizione quotidiana di All News, l'informazione targata TVRS e apriamo con un'auto che è volata da un cavalcavia a San Severino Marche. Al volante una giovane commessa straniera trasportata a Torrette. I dettagli li seguiamo nel servizio di Andrea Verdolini. Una 27enne straniera commessa in un bar del centro è rimasta ferita questa mattina dopo essere precipitata dal cavalcavia all'altezza della rotatoria di fronte al Don Orione tra Viale Mazzini e via San Michele a San Severino Marche. La giovane, che era la guida di un'utilitaria di proprietà della titolare dell'attività commerciale dove lavora, era diretta ad un supermercato alla prima periferia della città. Per cause, in fase di accertamento, una volta superata la rotatoria, ha sbandato finendo la soccorsa prima contro un marciapiedi e poi precipitando da un'altezza di circa 5 metri sulla strada sottostante dopo aver sfondato una balaustra in legno. La giovane sarebbe uscita da sola dall'abitacolo, riportando a prima vista ferite non gravi. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti e diversi automobilisti che le hanno immediatamente prestati i primi soccorsi. L'auto sulla quale viaggiava è andata praticamente distrutta nell'impatto. Sulla via sottostante su cui è piombata una strada a fondo chiuso non stava transitando nessuno e non vi erano auto parcheggiate. La ragazza è stata raggiunta immediatamente da un'ambulanza e stabilizzata dal personale medico e è stata trasferita con l'elicottero all'ospedale regionale di Torrette. Ed è di due feriti il bilancio di un incidente stradale con tanto di tamponamento avvenuto ieri sera lungo la statale 16 Adriatica non lontano dalla Galleria della Montagnola ad Ancona. A finire in ospedale con un codice di media gravità i due occupanti, un'auto travolta da un'altra vettura. Sul posto i vigili del fuoco assieme ad un mezzo della croce gialla è immediatamente scattato il trasporto al pronto soccorso del nosocomio regionale di Torrette e ancora da chiarire comunque le cause del sinistro. Andiamo avanti con il prossimo servizio. Sotto una nevicata c'è stato ieri il taglio del nastro a Pesaro di Candele a Candelara l'iniziativa che dà il via al Natale che non ti aspetti coordinato dalle prologo di Pesaro e Urbino. Sentiamo le interviste al microfono di Sergio Brizzi. Non poteva succedere evento migliore perché la soddisfazione di aver avuto oggi l'inizio degli eventi del Natale con la neve il regalo più grande il signore oggi non ce lo poteva fare. Beh è un grande evento diciamo che siamo partiti molto bene alla presenza della Regione Marche, delle autorità quindi ringrazio di cuore il Presidente della Proloco e il Presidente della Proloco regionale il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli l'Assessore Baldelli e Sua Eccellenza il Prefetto di Pesaro Urbino ma un grazie di cuore va a tutti i volontari perché oggi siamo qui a festeggiare un evento unico nel suo genere unico nelle Marche che porta oltre 260.000 turisti da tutta Italia quindi non possiamo che ringraziare i nostri volontari grazie al lavoro dei nostri volontari abbiamo destagionalizzato un periodo di bassa stagione e siamo riusciti a portare veramente migliaia e migliaia di turisti nei nostri borghi e con l'intervento dei volontari riusciamo a far ripartire un'economia straordinaria del nostro territorio le novità sono tantissime tanti borghi addobbati tante new entry quindi ci sono tantissime proloco che sono entrate nel circolo del Natale che non ti aspetti tanti borghi addobbati tante novità ci stiamo allargando sempre di più su tutto il territorio ma soprattutto stiamo puntando un gemellaggio forte tra Bolzano che sono i mercatini più blasonati d'Italia tra i nostri che sono i mercatini del centro Italia e tutto questo è possibile grazie al supporto di tutti soprattutto anche delle aziende privati degli sponsor che ci sostengono nel nostro territorio questo è una cosa veramente straordinaria perché tutto questo lo si può fare solo con un lavoro di squadra che noi volontari qui nel Pesarese lo sappiamo fare benissimo 20 anni di Candelara tra l'altro inaugurata da una bellissima nevicata che nessuno si aspettava è un buon segno proprio perché Candelara in questi 20 anni ha spinto la nostra provincia a creare la rete del Natale che non ti aspetti sulle tradizioni, sui valori attorno ai quali le nostre comunità si sono formate abbiamo trovato un grande evento, crediamo il più esteso non solo del centro Italia ma d'Italia, sul Natale che attrae tanto turismo e le marche che si connotavano soprattutto per un turismo estivo oggi possono vantare un turismo spalmato su tutto l'anno anche grazie a questi eventi che sono nati con la suggestiva idea di accendere le candele in un borgo che si chiama Candelara nella nostra provincia di Pesaro Urbino nella città di Pesaro Evento d'eccezione a Caldarola per il Festival Storie domani alle 15 il presidente del CONI Giovanni Malagò sarà protagonista dell'incontro su Gino Bartali il campione e il giusto l'evento ad ingresso gratuito si svolgerà nel teatro comunale riaperto di recente dopo le ferite del sisma e vedrà la partecipazione di Gioia Bartali nipote del campionissimo si tratta della 23esima tappa del ricco Festival Storie che in sette mesi porta ben 33 spettacoli in 11 borghi terremotati del Fermano e del Maceratese andiamo avanti con il prossimo servizio e si è tenuto nei giorni scorsi a Iesi un interessante incontro su un tema di grande attualità quello del presidenzialismo alla presenza del costituzionalista e scrittore Michele Ainis lo ha intervistato per noi Giovanni Filosa Professor Michele Ainis costituzionalista, insegnante, saggista e scrittore hai fatto alla Libera Università degli Adulti di Iesi hai tenuto una conferenza estremamente interessante proprio perché molto attuale sulla Repubblica Presidenziale pro e contro e molto, fra l'altro, molto seguito dal pubblico ecco diciamo, quali sono i pro e i contro? prima diciamo i pro e poi i contro il pro sarebbe il fatto di consegnare un potere che gli elettori non hanno cioè quello di decidere direttamente gli governo il contro è che però questo nuovo presidente eletto rischia di scompensare il sistema prosciudando i controvoteri in un momento come questo attuale che è caotico fra le guerre anche il post-covid dice puoi mettere due caffetti impazzire penso parecchia gente a chi può venire in mente oggi di imbarcarsi in una riforma costituzionale? ah ma quello diciamo tutti i leader politici forti Craxi e poi D'Alema e poi Berlusconi e poi Renzi e adesso Meloni cercano di come dire guadagnare i galloni di padre della patria intestandosi una nuova costituzione quindi qui siamo all'ultimo tentativo magari domani sarà il penultimo però viene in mente diciamo Giorgia Meloni non è la prima non è la prima come può essere venuto venuto in mente una persona come la Meloni forse il consenso che ha viste i dati statistici i voti che ha ottenuto è anche la sua persona l'hai detto anche tu anche dalla sinistra volendo come personaggio eccetera come può essere venuto in mente in un anno di cambiare comunque una parte sostanziale della costituzione beh c'era nel programma elettorale con cui centrodestra ha poi vinto le elezioni l'elezione sì però non è questo secondo me il motivo per cui diciamo il partito di cui Giorgia Meloni è in qualche modo figlia perché dal movimento sociale insomma la destra è sempre stata la destra italiana presidenzialista quindi questo corrisponde anche a un orizzonte ideologico se vogliamo in cui diciamo proprio della destra devo dire che anzi questa riforma me la sarei attesa prima il governo la maggioranza ha aspettato un anno per confezionarla avendone davanti se non scivola altri quattro per poterla perfezionare credo che sarà molto importante il dibattito parlamentare vedremo che succede un 52enne Ascolano è finito agli arresti domiciliari per stalking nei confronti di una coppia già protagonista di precedenti condotte persecutorie già denunciate alla locale autorità giudiziaria l'uomo avrebbe ripreso a chiamare i coniugi al telefono ed insultarli al citofono della loro abitazione ieri il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari e andiamo avanti con il prossimo servizio si è tenuto a Monte Carotto il convegno vino alimento funzionale per l'individuo e la società organizzato dalla CIA di Ancona vediamo il servizio di Luca Falcetta a poche settimane dalla conclusione della vendemmia la CIA di Ancona in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche ha organizzato presso l'azienda Moncaro di Monte Carotto il convegno vino alimento funzionale per l'individuo e la società esperti e produttori ne hanno elencato le caratteristiche principali le varie proprietà organolettiche e soprattutto il valore economico il vino da sempre esercita un'influenza rilevante sulla cultura dell'uomo più che ogni altro alimento agroalimentare non è considerato una bevanda ma impiegato come un vero e proprio alimento con molteplici azioni benefiche e sine dalle origini è anche un valido strumento di aggregazione sociale berne soltanto un sorso permette anche ai palati meno sopraffini di scoprire i profumi del territorio da cui proviene è in sostanza il primo narratore delle nostre campagne e testimonia il turistico di eccellenza la poliedricità del vino va quindi sfruttata a 360 gradi per garantire una costante ricaduta economica anche quando la sua produzione risente dei cambiamenti climatici quest'anno tra l'altro la vendemmia è stata piuttosto difficile a causa del massiccio ritorno innescato dalle abbondanti piogge e primaverilli delle principali patologie della vite in primo luogo il fungo della peronospera ma la qualità del prodotto che sta riposando in cantina è davvero ottima il vino marchigiano del 2023 seppure in minore quantità rispetto agli anni passati avrà un gran carattere l'economia del vino nella nostra regione ma soprattutto nella zona dell'area del verdicchio è molto molto importante ecco perché è importante mettere in piedi certi tipi di convegno che va a tutela in qualche modo del mondo del vino perché ci comincia a essere troppe diciamo avverse che comincia a dire che il vino fa male poi no tutti questi problemi qua il vino non fa male se è bevuto in moderazione fa bene per l'organismo ma ripeto è fondamentale per l'economia di questo territorio anzi bisogna che noi lo valorizziamo ancora di più lo portiamo in giro per il mondo anche per rafforzare il turismo l'agriturismo diciamo e creare quell'economia che deve essere fortemente legata al mondo del vino del verdicchio ma non solo del verdicchio perché qui abbiamo anche nella zona dell'Acrima di Moro d'Alba poi abbiamo anche il Rosso Piceno Rosso Conero abbiamo dei vini che sono eccezionali che non hanno da invidiare a nessun vino al mondo insomma ecco nel pomeriggio di ieri veniva notato in corso Garibaldi ad Ancona un gruppo di ragazzi tutti stranieri vestiti con abiti scuri di cui alcuni con volto travisato da passamontagna berretti cappucci e scaldacollo alzati fino agli occhi uno di questi con una mazza da baseball nelle mani ed un altro con una pistola giocattolo non sapevano però che mentre camminavano tra i cittadini stupiti ed impauriti a tenerli d'occhio c'erano tre poliziotti liberi dal servizio giunti in piazza Pertini in ausilio dei tre poliziotti arrivavano immediatamente altri operatori ed un equipaggio dei carabinieri si procedeva così ad identificarli e a togliere dalla disponibilità del soggetto la mazza da baseball mentre l'altro in possesso della pistola giocattolo riusciva velocemente a dileguarsi e a far perdere le proprie tracce i ragazzi quasi tutti di origine africana regolari sul territorio nazionale e privi di precedenti di polizia giustificavano la loro presenza e il loro abbigliamento riferendo che si erano dati appuntamento nel centro del capoluogo per girare un videoclip musicale amatoriale il soggetto munito di mazza veniva condotto presso la questura e qui l'oggetto veniva sequestrato mentre lui veniva deferito per porto abusivo d'armi ed oggetti atti ad offendere per tutti gli altri soggetti il questore di Ancona valuterà nelle prossime ore l'applicazione di idonee misure preventive ed ora è il momento di passare allo sport e dunque andiamo con la sigla vittoria netta e convincente 3 a 0 della Megabox in trasferta nell'anticipo di bolle femminile serie A1 sentiamo il servizio di Andrea Verdolini ferocemente determinata ad interrompere una striscia negativa troppo prolungata la Megabox fa in pieno il suo dovere e travolge a Trento il fanalino di Coda Itas in un match che comunque presentava più insidie di quanto non si potesse pensare guardando la classifica stavolta l'approccio è stato quello giusto e sulla scia di un primo set vinto sul filo di lana 26-24 grazie a Mingardi e Gardini le Biancoverdi hanno gestito al meglio gli altri due parziali mortificando sul nascere ogni tentativo di rimonta delle ragazze di Sinibaldi dove comunque ha brillato la The Hog da quel momento infatti è cominciata un'altra partita con le paroni di casa che si afflosciano improvvisamente non riuscendo più a trovare nemmeno il minimo contraattacco e la Megabox a giocare con scioltezze e lucidità secondo set a 18 e terzo addirittura a 14 con un dominio assoluto la Gardini MVP della gara con i suoi 18 punti ed il 58% in attacco riconfermata nel sestetto titolare dopo la buona prova offerta con la Igor Gorgonzola Novara Camilla Mingardi 16 punti ed un muro ed il tutto con Tatiana Koscelevi in panchina non era affatto facile loro avevano fatto qualche buon risultato ultimamente stavano giocando bene ha commentato nel post partito il coach Andrea Pistola le ragazze sono state brave a cominciare dall'atteggiamento in campo sin dall'inizio è un segnale positivo in vista delle prossime partite di campionato iniziando aggiungiamo noi dal match di domenica alle 17 in casa con il Bisonte Firenze nel frattempo si torna a mettere nel mirino l'ottavo posto al termine del girone di andata che qualificherebbe le pesaresi ai quarti di finale di Coppa Italia e nel pomeriggio come di consueto tanti match per la Serie D e l'eccellenza andiamo a vedere i risultati Serie D Girone F Avezzano Roma City 2 a 0 Fano Tivoli 0-3 Forse Impronese Vigor Senigallia 1 a 0 Notaresco batte Matese 3 a 0 San Benedettese batte l'Aquila 2 a 0 Sora Monte Rotondo 1 a 0 Termoli Chieti 0 a 0 Riccione Campobasso 1 a 1 ed è stata invece rinviata per maltempo Vasto Girardi Atletico Ascoli Scendiamo in eccellenza Urbino Montefano 2 a 2 Monte Giorgio Montegranaro 0 a 1 Simana batte Iesina 2 a 1 Urbani a San Giustese 2 a 0 Colli Montecchio 0 a 0 Chiesa Nuova batte Monturano 3 a 1 Civitanovese Tolentino 0 a 1 e Maceratese Castelfidardo 1 a 1 Vi ricordo di rimanere aggiornati sempre con il mondo TVRS seguendo il nostro giornale online utvrs.it dove potrete consultare in tempo reale con un aggiornamento costante 7 giorni su 7H24 tutte le notizie di cronaca sport e attualità ed ovviamente anche con tvrs.it dove sono presenti tutti i nostri TG e tutte le varie trasmissioni che la nostra emittente costantemente produce tutta la settimana per l'appuntamento con l'informazione è per domani alle 12 e 50 vi ricordo a partire dalle 21 le marche nel pallone con tutta la domenica dedicata al calcio regionale e non solo per quanto riguarda questa edizione di All News è tutto non resta che augurarvi una cordiale buona serata a partire a partire a partire